Ho avuto paura per parecchio tempo, però non è stata questa paura, questo limite a non lasciare comunque il mio paese, anzi è stato un motivo in più che mi ha spronato per lasciare tutto e riniziare tutto da capo, anche perché non ero felice. Premetto che io sono, mi reputo un'artista, mi reputo una ballerina, ballo hip hop, hip hop in realtà non è semplicemente una danza, un ballo o una moda che dura un anno e poi basta, si stoppa lì. L'hip hop di per sé è una cultura.